Gaetano, una vittoria che fa bene alla Fiorentina, una vittoria che avete cercato in ogni maniera? Sì, ora tocca dare continuità e non andare avanti con una vittoria, una sconfietta o un pareggio. Dobbiamo dare continuità e basta lavorare. Non era comunque facile un match che si rispettava comunque combattivo quest'oggi? Noi siamo scesi in campo con la convinzione di far bene, eravamo incazzati dopo la brutta sconfitta a Napoli e oggi ci siamo rifatti. Avete avuto modo anche di festeggiare e condividere questa gioia dei tre punti con il Presidente commisso? Siamo contenti ma non soddisfatti, la strada è ancora lunga e come ho detto prima serve solo lavoro e continuità di risultati positivi. Ora ci sarà un modo di rigiocare subito pochi giorni e al venerdì ci sarà appunto la trasferta contro il Granata, contro il Toro. Sarà una partita difficile e dovremmo prepararla bene e portare a casa un risultato positivo. Faccio l'ultimissima, vi siete mossi molto bene in campo nei 90 minuti, grande feeling anche con Buonaventura in mezzo al campo che ha smistato i palloni insieme poi a tutta la squadra in realtà. Ovviamente ci siamo trovati bene oggi ma così succede in allenamento, dobbiamo farlo più spesso perché creiamo tante occasioni. Oggi faccio i complimenti ai miei compagni perché siamo stati molto concreti, è stato porta.